Devo dire molto bella. Sì, anche perché è stata scritta da un grande, poi è considerato un grandissimo. Vengo di qua perché c'è sempre il fatto del microfono. Facciamo il girodondo tutta la sera. Da un grandissimo della musica che si chiama Ivano Fossati, quindi ha scritto veramente grandissimi successi Ivano. È legato un po' a questa new wave, oramai forse un po' passata, però fa parte dei cantautori nati dopo Paoli, De Andrè, Tenko, Lauzzi. Un po' dimenticato. Lauzzi sì, devo dire la verità, è la cosa che mi spiace molto, perché Lauzzi è stato un interprete e un autore, un cantautore straordinario che ha regalato delle canzoni indimenticabili anche lui. Però alle volte, vedi, ci sono dei personaggi che dopo purtroppo la loro morte sono considerati grandissimi e continuano a essere nominati anche nelle trasmissioni, altri che forse come hanno vissuto un po' con la loro modestia per tutta la vita, vengono anche poi scordati più facilmente. Io invece che l'ho conosciuto, era un piccolissimo ma grandissimo uomo, perché era alto così, avevo poi una cascata di capelli. Hai scritto anche tante belle canzoni per tante grandi artiste. Soprattutto per Mia Martini e per tanti altri. E quindi, insomma, devo dire, è un piacere ogni tanto cantare questa canzone, perché lui l'ha cantata benissimo, Lauzzi, e Fossati, non so se tu hai ascoltato, prima Tiziana ha detto che io sono un po' playboy, aveva detto, ma questo fa parte della nostra indole di genovesi, perché non so se tu hai ascoltato un po' il testo. Si chiama Questi posti davanti al mare. Che cosa racconta? Racconta di queste persone che, specialmente nel periodo estivo, arrivavano in Liguria da Firenze, da Pavia, da Alessandria, da Milano, quindi c'era questo passaggio di signore, e il genovese, che era sempre considerato introverso, eccetera, tutto quanto, guarda caso però, quando se ne andavano queste persone che passavano da lì, lasciavano il cuore proprio ai genovesi. Quindi voglio dire, qualche cosa poi sotto, 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 un fondo di verità c'è. Sotto, proprio sotto, sotto, qualcosa di grande c'è, è proprio una cosa... Perché ridi? No, perché mi fa ridere la Peroni, guarda, mannaggia a voi. Cosa c'entra? Niente, niente. Però adesso sai che facciamo? Siamme di che? Come? No, Siamme di che, ma stiamo parlando, che mi dici? Sarebbe, mi dica. Trasformiamo il nostro studio in una discoteca, eh sì, facciamo alzare tutto il pubblico, anche i nostri ospiti, da quella parte c'è il nostro balletto. Questa è una bella idea, di far alzare perché ce n'è un signore, là che lo vedo, che sta dormendo. No, non credo. Sveglia, eh, sveglia, adesso c'è la discoteca. Allora, ci alziamo a partire dalla giuria, vai Alex. Perfetto, anche da questa parte Maria Laura, Marina.